Tutto è pronto a Teggiano per la 25esima edizione di Alla Tavola della Principessa Costanza. Da oggi e per tre giorni le strade si animeranno di storia. Alla Tavola della Principessa Costanza, infatti, è una spettacolare macchina del tempo che coinvolge tutta la comunità di Teggiano, capace di riportare indietro di oltre 500 anni le lancette degli orologi. Percorrendo le antiche stradine si resta rapiti ed ammirati dalle fedeli ricostruzioni di ambientazioni e vecchi mestieri che fanno da contorno al centro storico cittadino. Uno scrigno d'arte che per tre giorni offre a migliaia di visitatori tutti i suoi preziosi gioielli. Una delle chicche più simpatiche e significative studiate dalla Proloco per celebrare le nozze d'argento della manifestazione è l'eccezionale presenza nelle tre giornate della manifestazione delle tre principesse che si sono succedute nel corso della storia, nel tradizionale corteo storico. Si comincia oggi con Concetta Maria Cantelmi, il 12 con Serena Delia e il 13 Cinzia Innelli. Ognuna delle tre serate si concluderà con un altro appuntamento attesissimo, l'assalto al castello.